Ben ritrovati ai telespettatori di Extra, ancora una puntata in esterna e ancora una puntata per parlare di rischi idrogeologici sul nostro territorio, però partiamo dalla Piana dell'Ossola, siamo in riva alla fiume Toce, le acque che scorrono sul fondo alle nostre spalle è proprio il fiume che attraversa tutta la Valla d'Ossola fino a sfociare poi nel lago. Ebbene, siamo qui per parlare di un problema annoso, vecchio per il comune di Pallanzeno, ovvero la questione relativa all'allagamento di Pallanzeno ogni qualvolta si verificano degli eventi alluvionali o comunque forte maltempo. Ci sono delle novità importanti che arrivano da Torino, ieri il sindaco Gianpaolo Blardone è stato a colloquio con i dirigenti regionali. Ci troviamo in Rivaltoce, questo è uno dei punti sensibili che in caso di maltempo generalmente esonda e all'incrocio con il canale qui a Pallanzeno crea davvero danni ingenti alla paese, però ci sono buone notizie che arrivano da Torino. Sì, questa è una storia molto lunga e infinita e per certi versi anche scandalosa, direi. Io spero di poterla chiudere in fretta e i presupposti ci sono. Ecco, io sono stato proprio ieri a Torino, ho incontrato l'assessore, il dirigente alle opere pubbliche, il dirigente della difesa del suolo e mi hanno garantito e mi hanno confermato che c'è un finanziamento di 5 milioni appunto per la mitigazione del rischio idrogeologico sul fiume Toce in località Pallanzeno. Questo intervento, questo finanziamento è dato di concerto tra l'assessore alla difesa e opere pubbliche di Torino, Gabusi, e il ministro dell'ambiente, Picchetto. Ecco, questo mi riempie ovviamente di soddisfazione, lo ritengo un po' un premio rispetto a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi lunghi anni, duro lavoro, e devo ringraziare, ovviamente credo sia giusto e doveroso da parte mia, ringraziare sia il presidente Cirio, sia l'assessore Gabusi, che ha mantenuto le promesse e devo dire anche in tempi molto ristretti, non pensavo neppure così. Ecco, adesso però il discorso non è finito, adesso gli scenari che si configurano d'ora in poi saranno da seguire da vicino. Allora, intanto la Regione Piemonte ha dato in carico uno studio di Torino per fare la valutazione delle opere, non il progetto vero e proprio di un'opera, ma stabilire le tipologie degli interventi che andranno fatti. E queste tipologie, questi interventi, e questa è la cosa importante, oltre che ottenere i pareri degli organi competenti, dovranno essere anche concordati con l'amministrazione comunale, con chi vive sul territorio. Ecco, questo mi fa ben sperare, io sono fiducioso, ma fin tanto che il gatto non è nel sacco, non dico gatto. Già, perché l'ultima alluvione, quella del 2020, Pallanzeno è proprio andata sott'acqua per tutti questi motivi. Sì, sì, nel 2020 sicuramente sì, sono le cose che noi continuiamo a ripetere. Ovviamente la confluenza del canale con il toce, alzandosi automaticamente il livello del toce, ritorna, c'è il rigurgito nel canale e questo poi fa sì che si allaga la parte bassa del comune. Io spero di dover, noi abbiamo trovato una soluzione a suo tempo, non è stata condivisa, speriamo adesso di trovare la condivisione di opere che tra l'altro creino poco impatto ambientale, insomma, questo è anche importante. Da Pallanzeno, dove abbiamo parlato appunto di quelle che possono essere le ipotesi di realizzazione per mettere in sicurezza la parte bassa dell'abitato di Pallanzeno a Macugnaga. Siamo tornati sette giorni dopo per vedere come la paese sta reagendo all'ondata di maltempo e il cambiamento si vede già in piazza del municipio. La piazza è tornata a essere fruibile da parte di turisti e residenti e nella giornata di lunedì l'ultime colonne della protezione civile, Vigili del Fuoco, AIB, Croce Rossa, Alpini hanno lasciato il paese. Sindaco, siamo in piazza, finalmente Macugnaga prende una parvenza di normalità dopo giorni di emergenza, ma l'emergenza non è finita. Diciamo che abbiamo fatto gli interventi necessari per poter vivere a Macugnaga. L'emergenza deve ancora cominciare come interventi definitivi perché adesso la piazza è pulita grazie alla collaborazione delle forze che sono intervenute dai Vigili del Fuoco, la protezione civile, a tutte le altre istituzioni, compresi anche gli Alpini, che sono venuti in massa a Macugnaga da Arcinamano. Ieri è partita l'ultima colonna dei Vigili del Fuoco e diciamo anche con una certa malinconia perché oramai erano diventate parte nostra del nostro territorio. Quindi era fatta una convivenza confidenziale, uno aiutava l'altro e tutti eravamo impegnati in uno scopo. Adesso la piazza si presenta direi bene perché è ripulita e riportata alla sua origine, però il resto fuori è molto pesante, le ferite sono profonde e gli interventi impegnano notevolmente quelli che sono tutti gli sforzi sia della comunità, senza l'aiuto delle istituzioni non ce la facciamo, è impossibile. Infatti lei ha chiesto l'aiuto delle istituzioni, serviranno molti fondi per rimettere a posto Macugnaga, no? Sì, servono decine di milioni a questo punto perché più si va avanti più si vedono le criticità sui quali bisogna intervenire. Abbiamo avuto l'immediata presenza della Regione, devo ringraziare quelli che sono i nostri rappresentanti regionali, dal Presidente, a Preioni, a Busmeroli, all'Onorevole Marnati, all'Assessore Marnati, all'Onorevole Candiani. La partecipazione è stata presente, sono visto, vedendo i luoghi, vedendo il disastro che ci ha toccato, sono rimasti tutti meravigliati. Sono tutti impegnati a darci una mano, abbiamo mescolato anche nel problema la Ministra al Turismo che ha promesso di farci una visita per rendersi conto come è andata in Valdosta anche a Macugnaga che poi alla fine è risultata la più disastrata del Piemonte. Signore, lei ha chiesto anche al Presidente della Repubblica di venire magari in una visita l'AMPO a Macugnaga per vedere da vicino cosa è successo? Sì, ho chiesto al Presidente della Repubblica una visita anche l'AMPO per venire a vedere e darci un attimo di conforto perché il Presidente della Repubblica mi ha coscritto e l'età sa quanto costa per stare in piedi e quindi se viene a farmi una visita mi fa veramente piacere. Devo risentirlo perché così mi hanno detto la Segreteria vediamo se riusciamo a combinare. Possiamo fare una mappa delle zone critiche di Macugnaga? La mappa delle zone critiche di Macugnaga, diciamo che l'abitato che è stato invaso dalle acque del Tambac e dell'Orlovano deve essere tutto risistemato, riorganizzato. La criticità più pesante che è di difficile intervento e di costi elevatissimi per rimettere a posto è l'asta dell'Anza a partire dalla foccia del ghiacciaio fino praticamente a Isella. Ci sono abitazioni che al momento non sono agibili? Sì, ci sono delle abitazioni che al momento non sono agibili, sono delle case sia qui a Staffa e poi c'è una residenza pluriabitativa, l'infrazione per Starena. Anche in questo caso si spera che le istituzioni possano intervenire al fianco dei cittadini? Sì, le istituzioni, diciamo abbiamo due tipi di intervento, quello delle opere pubbliche che hanno la sua linea, il suo indirizzo che verranno affrontate presto con le ordinanze sindacali. Appena definiamo con la protezione civile della Regione e del Ministero che saranno qui presenti mercoledì 17, gli interventi programmati, programmabili e finanziabili. Poi c'è il problema dei privati, i privati hanno un altro canale di finanziamento, allora devono fare le loro pratiche direttamente e saranno finanziate con degli interventi specifici a seconda del tipo di danno che hanno subito. Chi conosce il comprensorio del Belvedere può facilmente intuire che ci troviamo oggi su una pietraia che è quello che ha lasciato l'alluvione di dieci giorni fa, ma in realtà queste sono le piste. E allora da qui Filippo dovete ripartire per ricreare le condizioni per salvare la stagione invernale perché la furia dell'Anza e il Rofel hanno devastato quelle che sono le piste. Ebbene sì, la zona dove ci troviamo noi adesso siamo a fianco al fiume Anza, da qui la pista attraversa il fiume e da qui in giù erano tutti i prati e in realtà i danni sono estesi, c'è tantissimo materiale ma non solo apporto di materiale ma proprio il fiume ha scavato le nostre piste danneggiando tutte quelle che sono le infrastrutture sotto la pista da sci, gli impianti di innevamento, quindi le tubazioni dell'acqua, l'alimentazione elettrica e questo è un danno veramente che richiederà tantissimo sforzo e anche tantissime risorse e tanto tempo. Qui in questi luoghi negli ultimi giorni sono arrivati l'assessore regionale all'ambiente ma anche il parlamentare della Lega Candiani per dei sopralluoghi perché qui ci vorranno davvero molti fondi e sicuramente non è uno sforzo che potrete fare da soli. È proprio così, devo dire che la vicinanza sia della parte operativa che è intervenuta subito sia della parte politica fa molto piacere e ci rincuora un pochino. Si sono resi conto della devastazione che questa alluvione lampo che ci è stata ha portato e si sono resi conto della gravità e dell'imponenza dei lavori che servono per il ripristino. In questi primi giorni di emergenza al lavoro mi dicevi più di quattro ruspe per creare questo varco, questo percorso gippabile. Sì, il comune si è mosso subito con tante opere di pronto intervento. Per prima cosa si è ricreata la strada di accesso e dopodiché si è intervenuti subito nel liberare il letto del fiume in modo da rendere più sicuro in caso di ulteriori piogge e poi dopo si proseguirà, però adesso servono gli interventi quelli, definiamoli, definitivi e strutturali. Fortunatamente i danni non hanno intaccato il funzionamento della seggiovia, quella che porta ai burchi. Peraltro la zona dei burchi è completamente agibile, diciamolo. Sì, guarda, nella sfortuna abbiamo avuto una fortuna. L'impianto non è stato interessato da questa alluvione e infatti nel giro di pochissimo tempo siamo riusciti a riprendere servizio estivo. L'altra cosa curiosa è, come dicevi tu, che in realtà esistono due mondi, dal Lanza verso Valle dove vedete questa devastazione e dal Lanza verso Monte dove per fortuna non è successo praticamente nulla se non piccole esondazioni, piccole sistemazioni dei sentieri ma è tutto normale, tutto fruibile e questo è molto bello perché ci dà un po' la speranza di poter ripartire. In effetti dall'8 di luglio sia le seggiovie del comprensorio del Belvedere che il Moro dove peraltro nel prossimo fine settimana si potrà ancora sciare sono pienamente operativi. Allora un messaggio di invito a chi vuole venire a Macugnaga perché poi, eccetto la zona colpita effettivamente dall'esondazione, il resto delle strutture sono pienamente operative. Assolutamente sì, la cosa più bella che possiate fare per aiutare Macugnaga in questo momento è proprio venire a Macugnaga e fare lavorare non solo gli impianti ma tutti gli operatori turistici del territorio. Da qui ci aspetta un'estate, un'autunno comunque di grosso impegno perché la stagione scistica sembra lontana ma la verità è che i lavori da fare sono talmente tanti che non possiamo perdere neanche un minuto per essere pronti a novembre con il nostro impianto di innevamento. Una quantificazione dei danni? Al momento io non sono in grado, sono giorni che ci sono incaricati da parte del comune che stanno cubando la quantità di materiale che dovrà essere asportata e comunque veramente si parla di decine di milioni di euro di danni. Anche perché poi bisognerà trovare una sistemazione per tutti questi detriti, grossi massi anche? Sì, avete visto in paese quanti detriti sono stati asportati per liberare le vie, i giardini e le cantine del paese. Pensate adesso a liberare il letto del fiume per metterlo soprattutto in sicurezza in modo tale che eventuali ulteriori forti piogge non comportino una nuova esondazione. Perché poi abbiamo visto che la furia dell'acqua qui nell'Ansa ha l'ambito anche un muro di contenimento, no? Se questo muro fosse crollato, sollecitato dall'impeto di detriti e acqua sarebbe stato davvero un disastro per Macugnano. Guarda Maria Grazia, le opere ci sono, hanno svolto per fortuna il loro lavoro e sono state veramente messe a dura prova e adesso bisogna correre perché vengano ripristinate completamente nei tempi più brevi possibili. Tu che vivi in paese, qual è l'umore della gente? Che cosa si dice? Beh, sicuramente il paese ha avuto una risposta bellissima. Ci sono state tantissime manifestazioni di solidarietà, c'è stato un movimento forse anche incentivato dalla presenza di tanti volontari dell'AIV, della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, che hanno dato proprio vita a questo movimento di persone del posto che si sono aiutate uno con l'altro. Adesso bisogna andare avanti e bisogna ripartire con una stagione estiva che è quella che ci consentirà di avere anche le risorse per ciascuno di noi per mettere a posto i propri danni. Millie, lei ha una casa che sorge proprio qui vicino a Rio Tambacca, una casa di villeggiatura. Sì, siamo stati colpiti subito, è entrata questa massa di acqua e sassi, ha sfondato la porta d'ingresso, sfondando la porta del bagno, entrando per un metro in casa, in sala, in cucina. Ma per carità, però, siamo stati aiutati, guarda quelli della Protezione Civile, i volontari qua ci hanno aiutato, hanno portato fuori i mobili, ci hanno aiutato, c'era una spanna di fango dappertutto. Però poi lo sai che il fango torna fuori, per cui ce n'è di lavori da fare, poi tira via tutto dagli armadietti, fai brigadismo. Però non mi aspettavo che se ne andassero lasciando. Guardate cosa hanno lasciato. Questo è il mio giardino? Cioè, da tante parti li hanno tirati via i sassi, qua ce li hanno lasciati, mi viene da piangere. Cioè, questa è una roba... E dice, no, e noi le cose urgenti le facciamo, e il resto, arrangiatevi. Ecco. Adesso dovrete intervenire voi. Sì, non lo so, adesso ci informeremo, vedremo cosa si può fare, però guardate un attimo, questo era il mio giardino. Secondo voi io quest'estate posso venire su con i miei nipotini? Eh? Al di là di quello che c'è ancora dentro in casa. Vabbè. I danni sono ingenti alla casa. Guardi, non voglio neanche pensarci. Abbiamo dovuto buttare via tutto, chiaramente, frigorifero, lavastoviglie, forno. Dal mini pimer in su abbiamo buttato via tutto, perché cosa fai? C'è entrata acqua e sabbia, non puoi rischiare. Ma voi eravate qui sabato notte? No, no, per fortuna no, per fortuna non c'era su nessuno, perché ci fosse stato su qualcuno, magari scendi per spostare la macchina, vieni travolto. Per fortuna non è successo niente, sono danni materiali, pazienza, però per fortuna non c'era su nessuno che si è fatto male a nessuno. E adesso vediamo. Voi siete a Macugnaga perché avete una seconda casa. Sì, abbiamo la nostra seconda casa e siamo venuti su finalmente a svuotare le cantine. Avete avuto dei danni allora? Ma in realtà rispetto all'entità dell'acqua pochi. Cioè nel senso i sotterrani allagati, ma nessuno si è fatto male e è andata bene. Macugnaga torna a riappropriarsi della sua piazza e torna in quella che è la sua veste di località montana pronta ad accogliere i turisti, perché comunque in giro di turisti ce n'è. Sì, già dai primi giorni subito dopo l'alluvione avevamo qualcuno che era già qui, ha deciso di rimanere. Noi siamo stati valseri in tutto e per tutto e abbiamo lavorato per ripulire il tutto grazie alla protezione civile e ai vigili. Il turismo c'era, sta arrivando e abbiamo bisogno che vada avanti ad esserci. Quindi il messaggio che vogliamo dare è che siamo aperti, funziona tutto, le attività, i ristoranti, gli alberghi sono aperti, gli appartamenti vengono affittati, i residenzi sono aperti, seggiovia aperta, funivia aperta, i sentieri della parte bassa sono usufruibili. Vi invitiamo magari a chiedere informazioni qua all'ufficio informazioni, siamo aperti sia la mattina che al pomeriggio, o ci mandate una mail o provate a telefonarci. Ma Cugnaga c'è, ma Cugnaga attiva, ma Cugnaga d'estate è bellissima. Senti, quali sono le iniziative in programma a livello di eventi per le prossime settimane? Allora, ci sono varie associazioni che naturalmente sia a luglio che agosto hanno messo in piedi varie feste. Quella che mi viene in mente è del nostro gruppo giovani che va nominato per l'aiuto che ci ha dato durante l'alluvione a ripulire i locali che hanno subito i maggiori danni. Ma il gruppo giovani il 20 di luglio fa una bellissima festa della birra al tendone che abbiamo sotto al campo sportivo a testa. E poi ci sono altre manifestazioni di rilievo che vi vi invito andare a vedere sul sito www.macugnaga-monterosa.com Trovate nella lista di tutti gli eventi sia della Valle che di Macugnaga. Alcune coincidono, certe date, però sono eventi che portano sicuramente il turismo di passaggio della giornata a Macugnaga, ma anche per chi è qui possiamo sicuramente avere delle ottime iniziative. Ad esempio anche quella che ci sarà sabato con il GT Tour ci saranno delle macchine che verranno esposte qui in piazza e vi invito a vedere la nostra piazza che sta riprendendo vite e piano piano rimettiamo tutto a posto. Qual è l'identikit tipo del turista che generalmente viene qui a Macugnaga? Allora, ne abbiamo di diverse perché abbiamo quello della giornata che parte magari perché fa tanto caldo da giù e passa la giornata con la famiglia qua a Macugnaga, come quelli che fanno più escursionismo. Quindi abbiamo tanto passaggio del Tour del Rosa che adesso piano piano spero che riprenda perché abbiamo avuto un po' di problemi nella parte del turlo. Quindi invito comunque prima di muoversi a contattare il CAI, noi degli uffici informazioni, sia nella Valle Anzasca ma anche nelle Valle Limitrofe, Alagna, Sasfe e le parti appunto di questi passi. E poi altri tipi di turisti sono quelli che hanno le seconde case o chi prende l'albergo o i residence e gli appartamenti per periodi più lunghi o anche per periodi brevi. Non solo italiani? No, anche turisti che vengono dal bacino del lago, quindi tutta la parte del lago con le varie agenzie e salgono a Macugnaga con gli autobus o con i pulmini più piccoli e possono passare una bellissima giornata a Macugnaga. Anche perché noi abbiamo dei bellissimi musei da visitare. Il Museo del Contrabbando della Montagna, il Museo Casa Walser di Borca e mi raccomando la miniera perché noi abbiamo una miniera che è visitabile per un chilometro ed è bellissimo. Anche lì, su prenotazione, bisogna chiamare, ci sono degli orari precisi, ma è molto bello anche questa parte che è legata alla cultura walser o al fatto di avere una miniera del genere da poter visitare per un chilometro. Un altro aspetto importante legato a quello che abbiamo appena vissuto, sulla sicurezza e la conoscenza della montagna, vi invito a contattare le nostre guide alpine e anche il CAI, ma abbiamo cinque stupende guide alpine di cui uno appena diventato guida da poco e voglio nominarlo perché è uno dei nostri giovani, Andrea Lanti, che vi possono accompagnare e insegnare proprio i primi approcci con le arrampicate, conoscere meglio i sentieri e affrontare poi tutto quello che riguarda sia d'estate che d'inverno la montagna a 360 gradi, sia per lo sci che lo sci alpinismo, le arrampicate e la bellissima ferrata che abbiamo al Monte Moro. Vi ricordo che questo weekend tra l'altro si può ancora sciare nella pista del San Pietro, quindi è un aspetto molto importante perché andiamo a sfruttare le ultime nevicate che abbiamo avuto e chi vuole può ancora sciare a 3000 metri. Ricordo inoltre la valle, perché la Valle Anzasca è Macugnaga e Macugnaga è parte della valle. In valle abbiamo dei bellissimi paesini, Manzone, Ceppo Morelli, adesso non posso nominarli proprio tutti, abbiamo delle bellissime cartine che vi aiutano per visitarli nelle loro parti antiche, quindi un'ottima escursione che si può fare durante una visita giornaliera di Macugnaga o anche chi sta qui più giorni è andare a visitare i nostri paesi della valle. Adesso la voglia è quella di lanciare un messaggio positivo a Macugnaga, perché Macugnaga comunque è in grado di accogliere i turisti. L'appello che io faccio ai turisti, a quelli che conoscono Macugnaga, che avevano programmato Macugnaga, venite a Macugnaga perché la vostra presenza è indispensabile. Macugnaga vi garantisce la sicurezza perché le criticità sono state superate, vi garantiamo tutti i servizi. Quelle che sono le sistemazioni che dobbiamo fare, che sono rilevanti e imponenti, quelle che non interessano l'abitato di Macugnaga. Può diventare anche una curiosità. Io ho vissuto l'alluvione di Macugnaga sotto l'esda rosa, che è sempre lì che si controlla e si guarda ed è un'esperienza che purtroppo non è comune, ma comunque può essere anche interessante per vedere cosa succede in montagna con i cambiamenti climatici. Sindaco, da primo cittadino di Macugnaga l'hai inorgoglita la risposta che c'è stata? Tutti hanno aiutato tutti e si sono dati un grande affare anche i giovani e tutti ci tengono a sottolineare questo passaggio. Ma diciamo che noi il risultato l'abbiamo ottenuto perché tutti hanno partecipato. Un ringraziamento alla popolazione, quasi sembrava una festa. Quando come parti per un'avventura che non sai se torni indietro, ti dai una pacca sulle spalle, un sorriso e vai. E qui è successo così. Da dove vieni? Paisi Bassi, Olanda, Amsterdam. Voi arrivate dalla Versiglia, vi siete informati su quello che era successo, ma siete venuti lo stesso perché giustamente bisogna... Siamo venuti, dove è il problema? Si sperava solo di non creare disagio e ci hanno detto di no e allora abbiamo deciso che comunque valeva la pena di contribuire così alla ripartenza. Ecco perché insomma sono cose che dispiace, che succedono e per fortuna non ci sono state vittime. Voi conoscevate già Macognaga? No. No, avevamo deciso di conoscere il Monte Rosa e questo era stato deciso così quest'anno di venire su Monte Rosa, vedere il Monte Rosa. Quanto vi fermerete? Una settimana. Dalle rive del Torce la rivederci a una nuova puntata, Extra va in vacanza, ci rivedremo appunto con il ritorno dell'autunno per nuove puntate, salvo eventi eccezionali che richiedessero ovviamente speciali approfondimenti. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti la rivederci e vi lascio ai programmi della Rete.